Oggi è un evento più unico che raro per la nostra città perché è per la prima volta che si manifesta pubblicamente in piazza per i diritti omosessuali ma soprattutto per i diritti civili e per il riconoscimento delle coppie di fatto. Noi siamo anche un po' dispiaciuti perché a oggi il Papa Bergoglio ha fatto l'ultima dichiarazione dicendo che ci sono famiglie di serie A e serie B, che comunque ci sono famiglie di un certo tipo. Noi siamo anche un po' stanchi che nel 2016 ancora ci siano questo tipo di polemiche perché comunque la popolazione LGBT che oggi è in piazza fa parte dello Stato italiano come tutti quanti. Ormai siamo nel 2016, io trovo che sia assolutamente anacronistico anche che ancora si stia qui a manifestare per il riconoscimento dei diritti di essere umani.